Quest'oggi con noi un'artista dalla voce inconfondibile, Giussi Ferreri, ciao, benvenuta! Ciao, felicissima di essere in tua compagnia, in vostra compagnia, piacere di ritrovarvi. Come stai? Perché questo è un 2022 pieno di progetti. Sì, è vero, è un periodo diciamo bello intenso di promozione, io sono molto felice e molto grata di questo perché appunto è uscito il mio nuovo album il 28 di febbraio e in questi giorni è uscito anche il terzo singolo estratto di questo album cortometraggi che è cuore sparso, per cui diciamo che sono super attiva. Assolutamente sì, senti cortometraggi è il titolo del tuo album, come mai questo titolo e soprattutto possiamo dire che all'interno ci sono dei piccoli film? Sì, allora diciamo che ho pensato proprio ad un titolo come cortometraggi perché mi ha sempre affascinato il mondo del cinema e ho pensato ad un titolo così per il mio album perché volevo presentare un album comunque pieno di versatilità e pensando anche quelle che sono le scalette di uno spettacolo live dove comunque mettendo insieme diversi brani di repertorio ormai di tutti questi anni si possono assaporare durante i live diverse fasi comunque di sonorità pop influenzate a volte da sonorità rock alle volte punk, alle volte testive, per cui quando ho lavorato a questo album ho pensato ad un album che potesse contenere la stessa versatilità che si sente appunto su uno show live e di conseguenza quando pensiamo al cinema pensiamo anche ad un interprete che recita diversi ruoli e allora mi è sembrata la cosa più appropriata anche perché mi piace l'idea di associare comunque le canzoni alle immagini e in questo album c'è anche un brano dal titolo Federico Fellini non a caso per cui omaggiando anche un grandissimo regista italiano internazionale e per cui diciamo che per svariati motivi la parola alla sintesi della parola cortometraggi mi ha portato ad esprimere un po' tutto quello che volevo esprimere in questo nuovo album Era la più completa, senti, cuore sparso, l'hai anticipato, anche tu è il singolo che stiamo ascoltando e apprezzando anche molto in radio, c'è stato un percorso che hai fatto perché tu sei partita proprio agli esordi con dei ritmi sofisticati, raffinati poi ti sei buttata, c'è stata questa sparentesi con grandissime collaborazioni con ad esempio Baby Kei o Takaji e Ketra, molto densa perché ci hai fatto ballare per diverse stati e adesso sei ritornata su questi ritmi sofisticati Sì, come hai detto tu, io effettivamente ho avuto l'opportunità, grande opportunità di poter condividere diciamo in questi ultimi cinque anni il periodo estivo affiancato appunto da questi grandi nomi come Baby Kei, Takaji Ketra, Elettra Lamborghini e ci siamo divertiti su delle sonorità diciamo prettamente estive e più danzerecce e diciamo che queste collaborazioni a quale sono molto grata mi hanno dato un valore aggiunto al mio repertorio hanno dato diciamo maggiore vivacità, leggerezza un colore che evidentemente c'era anche l'esigenza di poter aggiungere a tutte le mie altre sonorità che a volte risultano come hai detto tu più sofisticate e le volte anche più introspettive e di conseguenza diciamo che hanno fatto conoscere una nuova parte di me che in realtà non avevo mai considerato per cui è emersa grazie anche alle loro collaborazioni A proposito di Cuore Sparso è uscito anche il videoclip che è realizzato con tutti i tuoi disegni giusto? Sì mi sono divertita e devo dire mi ha rilassato molto questa idea che ho improvvisato in realtà insomma quando abbiamo deciso di uscire con la mia casa discografica con un brano così intenso come Cuore Sparso nel momento in cui c'è stato da pensare al videoclip ho pensato che qualsiasi cosa che potesse riprendere me diciamo come si fa solitamente nei videoclip poteva risultare comunque qualcosa di già visto o banale e per esprimere quell'intensità che si narra in ogni singola frase ho pensato che anche il più semplice dei disegni per cui che poi ho voluto realizzare diciamo anche come spunto sui disegni facili per bambini alla fine mi ha dato l'idea che potevano arrivare ad esprimere molto di più sui contenuti piccoli messaggi comunque che hanno una valenza comunicativa perché ho pensato appunto alla bimba che tiene una palla con dentro disegnato insomma il nostro pianeta terra per cui nella frase in cui dice ancora voglia di giocare con te diciamo c'è di fondo tutta la speranza di poter far sì che il futuro del nostro pianeta è nelle nostre mani nelle mani dei nostri bambini per cui dobbiamo sempre proteggerlo così come anche quando si vede la mano che stringe nel suo palmo questo cuore dove anche all'interno c'è il disegno del nostro pianeta terra un po' simbolico come come dire chi alle volte può prendersi un po' gioco anche della terra di tutte le cose che alla fine ci mette a disposizione e non sempre poi alla fine come come esseri umani riusciamo a rispettarlo nella sua totalità e poi insomma ce ne sono un po' tante di immagini simboliche un po' una porta che si apre dove al di fuori si vede un luna park che è un po' un segno del diciamo di libertà e di vivere un po' la nostra vita come se fossimo effettivamente su una giostra per cui cercare di prenderne sempre il positivo di viverla con una certa vivacità ecco l'obiettivo è stato centrato è molto originale molto bello questo video che ho guardato volentieri senti si avvicina l'estate due anni in cui siamo stati chiusi due anni in cui il settore spettacolo ha sicuramente sofferto ti vedremo su qualche palco c'è qualche data che ci puoi anticipare? allora sicuramente d'estate sarò in tour con la mia band ci saranno delle tappe estive che anticiperanno anche il tour autunnale nei teatri di cui le prime tappe sono appunto il primo di ottobre all'auditorium parco della musica di Roma il 3 ottobre al teatro del verme di Milano e come ti dicevo prima partiranno anche delle tappe estive di cui al momento sono in attesa appunto di un calendario definitivo da godermi per l'estate poi molto probabilmente ci sarà anche un quarto singolo estratto da questo album per accompagnarci durante il periodo estivo che al momento non posso ancora svelare perché appunto è uscito appena cuore sparso e insomma vedremo poi ci saranno sicuramente le varie occasioni come negli anni precedenti di tv dedicate anche ai palchi musicali e allora attendiamo di vederti live in bocca al lupo davvero per tutti questi progetti grazie per essere stata con noi viva il lupo e grazie molte a presto